Ciao a tutti, la data d'uscita della PlayStation 5 è tra virgolette slim, finalmente è stata decisa ed è prevista per domani, 24 novembre 2023 qui in Italia. Versione slim tra virgolette perché non è propriamente una versione slim, ma è semplicemente la PlayStation 5 standard resa un pochino più piccola. A mio avviso si può usare il termine slim, è per dimensioni, lo potete vedere dalla foto, molto più piccolina, la precedente era un bel mattone sia in pesi che in dimensioni, a me non è mai piaciuta, infatti mai comprata. Questa mi sembra un buon compromesso. In un video più specifico vi avevo detto tutte le caratteristiche, ma ve li riassumo, le differenze sostanziali sono nella memoria, la precedente otteneva se non mi sbaglio tra gli 825 GB di memoria, quella nuova, la versione slim avrà un terabyte di memoria, la possibilità di poter staccare il vano disco, oppure inserirlo successivamente nella versione digital della PlayStation 5. Le caratteristiche in sé invece sono uguali, cioè prestazioni e quant'altro non cambia nulla, la differenza è nelle dimensioni, nella memoria, vano disco estraibile. Potrete pure cambiarne poi la scocca e i colori, volendo al prezzo di 50 euro più o meno di ogni scocca, e purtroppo però dovrete spendere almeno 100-120 euro per poter comprare quello che sarà il piedistallo sulla quale la PlayStation 5 Slim può essere tenuta in verticale. Purtroppo non è inserita all'interno del pacco. Considerazioni finali. Rebuto che sia un gran passo avanti, nel senso a me la prima versione non è mai piaciuta, sia per le sue dimensioni schifosamente grandi ed inutili, sia per il fatto che sia uscita in un periodo nella quale la PlayStation 5 non aveva nessun gioco, andava avanti a Remastered e sta cominciando a prendere piede a videogiochi adesso, cioè è andata avanti per tre anni con delle Remastered, quindi penso fosse letteralmente una console buttata lì in attesa di far uscire questa versione, per poi in attesa della Pro che suppongo uscirà l'anno prossimo, può essere o inizio l'anno prossimo oppure se vogliono tirare alla pelle lunga a fine dell'anno prossimo. Per altri dettagli vi terrò informati qui o magari su YouTube, seguitemi sempre al canale Nonno Idec e per chi invece interessa nei manga su Il Colleziona Manga, su IG o su questo canale stesso, nella quale tratto anche manga, variant e quant'altro. A presto!